Sarà allo stadio Ceravolo di Catanzaro il campo di esordio del nuovo Teramo di Bruno Tedino il 25 agosto, dunque partenza in trasferta per i Biancorossi che nel nuovo Bonolis una settimana dopo riceveranno alla seconda giornata la Sicula Leonzio. Ma la partenza è di grande fascino, specie nelle gare in trasferta perché alla terza il Diavolo sarà di scena al partegno Lombardi di Avellino. La parte centrale del calendario del Teramo non è impossibile ma il finale sarà da brividi perché ci saranno tutte o quasi le big di un raggruppamento che sembra davvero una Serie B2. Le due gare in casa con la Casertana e il Biscegli appena riammessa tra la dodicesima e la tredicesima saranno il proscenio alla trasferta in casa del Picerno del grande ex Nebil Kaidi il 10 novembre. Dopo sette giorni sfida ad alta tensione in casa contro la Ternana, partita che per la tifoseria Biancorossa ha più del significato dei tre punti. Ancora una settimana e si va al San Nicola di Bari contro la favoritissima al salto in Serie B. Palcoscenico meraviglioso, l'astronave di Renzo Piano costruita per Italia 90 per provare a fare il colpaccio. Si torna in Abruzzo poi con la regina a far visita al Diavolo, poi la trasferta calabrese a Vivo Valencia contro la Vibonese prima dell'ultima di andata in casa contro il Catania di Andrea Camplone il 15 dicembre. Il 26 aprile la chiusura del campionato dunque sarà al Massimino, peraltro un girone C che torna a 20 compagini con la decisione della FIGIC di non procedere al ripescaggio del Cerignola dopo il pronunciamento del collegio di garanzia del CONI. Solo il Bisceglie entra nel raggruppamento del Sud insieme alla Teramo, mentre i gialloblu pugliesi promettono battaglia al Tar. Noi abbiamo problemi, sarebbe sciocco non dirlo. Noi abbiamo problemi di sostenibilità economica, bisogna rimettere il pallone al centro, bisogna lavorare sulla sostenibilità economica. Questo è il mio assillo, su questo e non sul resto, ma anche sul resto si giocherà se si è governato bene o meno. Abbiamo bisogno che ci venga riconosciuto che noi siamo la Lega dei Pulmini. Eh sì? Perché significa che noi andiamo a prendere ragazze e ragazze nelle abitazioni per fare due operazioni. Insegnare calcio, la nazionale italiana e la formazione per toglierli dalla strada e quindi li proteggiamo. Per fare questo qualcuno ci deve riconoscere questo ruolo, perché se non ce lo riconoscono questa calma può diventare anche un po' burrascosa. Insomma, se tutto dovesse andare liscio, il 25 agosto si parte!